Pomeriggio in Abruzzo a Pescara, ieri per il sottosegretario di Stato al Ministero della Salute Marcello Gemmato, invitato dai vertici regionali di Fratelli d'Italia in vista delle elezioni europee dell'8 e 9 giugno. Diversi temi affrontati dall'uomo di governo, tra i quali quello della sanità, tema caldo in questo momento in Abruzzo. Al sottosegretario abbiamo chiesto se esiste un problema di dimensionamento e suddivisione del Fondo Sanitario regionale. Segnalo che il governo Meloni ha aumentato il Fondo Sanitario nazionale fino a farlo arrivare a 134 miliardi di euro. In precedenza, le porto un parametro, nel 2019 prima del Covid era di 114,8 miliardi di euro, quindi 20 miliardi di euro in meno. Ora a livello regionale è evidente che ci sono delle criticità diffuse. Ovviamente siamo, la regione Abruzzo è nei termini giusti per chiaramente, come dire, equilibrare i bilanci e presentarli al Ministero della Salute con estrema semplicità. Registro in tema di sanità con il nuovo piano sanitario immaginato dal Presidente Marsilio una assoluta innovazione nel riuscire a dare anche una sanità di prossimità e quindi una sanità territoriale insieme ai finanziamenti della misura 6 del PNRR, immagino che l'Abruzzo potrà avere nel breve e nel medio periodo una sanità migliore che sia più a dimensione di cittadino.